Oggi procediamo un po' in queste idee di marketing natalizio, quindi nella preparazione della tua strategia di marketing per il Natale e ti do ancora qualche consiglio un po' più operativo, marchettaro, su come gestire questo periodo natalizio. La prima idea che ti voglio dare a livello di organizzazione di quello che è un po' sia il tuo negozio sia i tuoi prodotti in vista del Natale è quella di proporre delle idee regalo. Come vedi anche grandi aziende, come non lo so, adesso mi vengono in mente questi casi, Bottega Verde, Yves Rocher, te le dico perché adesso mi vengono in mente queste, insomma propongono delle idee regalo, dei pacchettini regalo già pronti. Quindi suggerire cosa regalare è un gesto molto apprezzato dal consumatore perché si sentirà guidato e sostenuto, supportato nella sua scelta. Tra l'altro se sei tu negoziante a dirgli che quel regalo è perfetto per, non lo so, il suo lui, beh allora si convincerà che quello è proprio il regalo giusto. Ci sono alcune formule di idee regalo che funzionano sempre. Te le elenco così poi scegli quella più consona alla tua attività. Regali per lui o lei, idee regalo prettamente femminili o maschili, indicati per essere acquistati dal partner o dalla partner il più delle volte. Una classificazione dei regali in base al grado di parentela. Non tutti i parenti sono uguali, ci sono dei regali più adatti per una mamma, più regali più adatti a una nonna, oppure per il fratello, per la sorella, quindi cerco un po' anche di capire nei prodotti che hai tu in negozio, quali potrebbero essere più indicati per il grado di parentela o anche in questo, pensiamo anche alle fasce d'età poi, che possono avere i parenti, che suggeriamo. Quindi qui mi ricollego, anche una divisione è possibile fare per fasce d'età. Regali per i bimbi dai 0 ai 3 anni, dai 3 ai 5, crea tu le fasce d'età e rendili un po' più simpatici. Secondo me è una cosa carina, potrebbe anche essere quella di di solito sotto i 10 anni sono le fasce d'età, ma perché non pensare di farlo regalo ideale dai 20 ai 25 anni? Secondo me è una figata perché nessuno lo fa. Altra selezione dell'idea regalo per fasce di prezzo. Chi ha un budget prestabilito, chi magari fa regali in gruppo, chi ha già un'idea e quindi è più organizzato e dice voglio spendere 20 euro per quel regalo, 30 per quello eccetera, dividere anche in negozio proprio le idee regalo per fasce di prezzo può essere un'ottima soluzione. Ed infine dei regali basati su interesse. Qui suggerire dei regali basati su hobby e su passioni può essere sicuramente un'ottima cosa molto apprezzata. Mi viene in mente un negozio di casalinghi, quelli articoli per la casa in generale, potrebbe fare l'angolo di chi è appassionato a cucinare dolci e quindi idee regalo per chi ha questa passione. L'angolo di chi è appassionato invece a cucinare la carne e quindi le pentole adatte, i coltelli adatti, i set di coltelli, chi è appassionato al vino e quindi creare i decanter, i becchieri da vino. Quindi di quelle che ti ho dato, come ti dicevo, scegli una classificazione, quella che ti sembra più adatta al tuo tipo di business. Certamente chi entrerà nel tuo negozio apprezzerà lo sforzo che tu hai fatto nel selezionare già i regali per lui. Io ti consiglio quindi di rendere ben visibile il negozio, dividendo un po' le varie idee, le varie categorie di idee per settori. E ormai che hai fatto lo sforzo, però io ti consiglio di dirlo anche in tutti i canali. Perché? Perché questo è un tuo punto di forza grosso di questo Natale. Lo puoi utilizzare come volano per acquisire nuovi clienti oppure per fare tornare da te, che magari c'era stato un tempo, negli scorsi anni non aveva trovato magari il regalo giusto, però quest'anno con le tue idee regalo lo troverai sicuramente. Quindi scatta delle foto di questi angoli, di queste idee regalo, pubblicale su Instagram e su Facebook, quindi fai anche delle stories, dei filmati, dei mini video, racconta queste idee regalo che hai scelto. Vieni in mente nell'IG stories, puoi soltare i sondaggi, quindi chiedere se piace quest'idea regalo, se secondo loro può essere adatta, insomma, sbizzarrisciti. Altra cosa che ti consiglio di fare assolutamente è inviare un SMS ai tuoi contatti di questo tipo qua. Marta, dici a chi vuoi fare il regalo e noi ti diamo l'idea. Vieni in negozio e scopri i nostri suggerimenti personalizzati per il regalo di Natale perfetto. Io sinceramente, che sono sempre in difficoltà a fare i regali, se ricevesse un SMS del genere sarei molto curiosa e con molta, molta probabilità mi recherai il negozio. La stessa cosa la puoi fare anche con l'email, magari lì puoi anche sfruttare la multimedialità del canale email per inserire le foto delle idee regalo e quindi invogliare anche in questo senso i tuoi consumatori a venire. Se hai nel tuo database sia SMS che email, io ti consiglio di utilizzarli entrambi perché il canale SMS viene letto dalla totalità delle persone e è una comunicazione che stuzzica l'idea e che quindi ti aiuterà sicuramente ad avere un alto tasso di conversione. Dall'altro lato, l'email è efficace perché è vero che è un tasso di lettura medio molto più basso perché è del 22% di solito in media. È anche vero che chi riceverà l'email e la guarderà sarà un'aria attratto dalle foto e delle didescalie e dal racconto che tu inserirai. Altra idea, come ti dicevo nei video, prepara anche i buoni regalo perché sono ottimi per chi è ancora più indeciso e magari a cui non gli bastano neanche le idee regalo quindi quelli anche sono un'ottima alternativa. E poi un altro spunto che ti do che ho preso da Grom, la grande catena di gelaterie, di gelato artigianale è proprio quella di preparare un calendario dell'avvento. È un'idea semplice e innovativa anche se legata alla tradizione. Quindi ogni giorno del mese di dicembre riservi una sorpresa ai tuoi clienti. Se ti prendi un po' in ritardo perché ovviamente adesso siamo anche già a dicembre inoltrato non ti preoccupare, potresti anche pensare di fare le ultime due settimane dell'anno, perché no? Che sorprese fare? Quindi ogni giorno una sorpresa, cosa regalare? Beh, mettere magari uno specifico prodotto in offerta piuttosto che un gadget in regalo per chi acquista sopra una certa cifra o ancora un buono sconto per acquisti effettuati esclusivamente il 24 dicembre. Insomma, sbizzarrisciti tu. Cerca di rendere il tutto ben visibile creando un vero e proprio calendario cartellone da mettere in negozio anche nella vetrina dove pubblicizzare comunque anche le sorprese in serbo per i giorni successivi. In questo modo incentivi i visitatori a tornare e a scoprire sempre le nuove sorprese a rimanere aggiornate e quindi essere anche più stimolati nell'incuriosirsi dell'iniziativa. Lo spunto è il calendario dell'avvento come ti dicevo all'inizio l'ho preso da Grom. Analizzando la strategia che lui aveva fatto aveva creato questo grande albero di cartone con le coppettine proprio gelato. Le coppette venivano ogni giorno quindi di giorno in giorno venivano girate in tutte le gelaterie per regalare delle sorprese ai clienti. Quindi c'era, non so, un giorno c'era la degustazione gratuita del cioccolato noir un giorno dei marron glacé Un'altra cosa che ho letto simpatica era di regalare una pallina gelato a chi quel giorno entrava in negozio e iniziava a cantare una canzone di Natale quindi come vedi le idee gli spunti sono davvero tanti. Il regalo veniva annunciato in vetrina quindi dal cartellone anche via social. Tra l'altro chi poi voleva rimanere aggiornato con l'iniziativa quindi non doversi regalare in negozio ma ricevere la comunicazione di che premio sarebbe stato quel giorno poteva lasciare in una landing page il suo nominativo, la sua email il suo numero di cellulare e ricevere un avviso. Quindi anche qui il consiglio che ti do è quella di creare una landing page con un form di raccolta contatti nome, cognome, cellulare e mail chi si iscrive lo fa per ricevere in anteprima quelli che saranno i premi di quel giorno e intanto tu in questo modo raccogli il suo contatto e poi lo potrai ricontattare per altre iniziative nel corso di tutto l'anno. Il tuo obiettivo del calendario dell'avvento qual è? Acquisisci nuovi contatti incuriosisce e raggiungi nuovi clienti e fidelizzi un po' agli esistenti creando questa sorta di gioco. Ok, fermiamoci un attimo nelle settimane che precedono il Natale il tuo negozio sarà sicuramente più affollato del solito. Questo è un ottimo momento per promuovere il tuo programma fedeltà. Se non proponi ancora un programma fedeltà ai tuoi clienti potrebbe essere l'occasione giusta il Natale per iniziare. Questo perché con le tessere fedeltà digitali attenzione possiamo mettere in pratica due cose interessanti una quella di stimolare e fidelizzare i nostri clienti e numero due quella di utilizzare la marketing automation per essere sempre in contatto con loro. Comunque ci sono vari video su questo argomento quindi magari te li metto nelle schede in modo che puoi andare a vederteli e approfondire un po' di più l'argomento. Quindi il Natale è un ottimo momento per promuovere il programma fedeltà. Come fare? Beh, una cosa semplice che puoi fare quando il cliente viene in cassa a pagare gli puoi dire guarda se ti va se ti scrive il programma fedeltà che ti dà dei premi e magari gli dai anche la lista dei premi questi premi qui con il raggiungimento i tot punti ti faccio anche 5 euro di sconto immediato sull'acquisto. Ti può interessare? Con i 5 euro di sconto immediato tac wow tutti si illuminano e ti diranno sì 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 voglio iscrivermi voglio iscrivermi quindi cosa fai? Tiri fuori il tuo tablet o lo smartphone gli fai compilare semplicemente un modulo online in cui gli richiedi i suoi dati e voilà solo con questo lui sarà iscritto al programma di fedeltà digitale quindi non servono tutti quei moduli cartacei con mille nulla di tutto ciò tutto molto veloce. Ora sapendo che il tuo negozio gli darà degli allettanti premi o sconti perché andare dai tuoi concorrenti il mio consiglio è che oltre a dirlo a voce in cassa visto che avrai molte persone in negozio sfrutta anche crea una vetrofania dei banner da proprio spargere dicendo che è attivo il programma fedeltà metti magari la lista dei premi che ci sono in base al raggiungimento dei determinati punti e promuovelo in vari punti del negozio. Per realizzare la grafica ti do un piccolo consiglio se non ti vuoi appoggiare ad un esperto esterno ad una figura potresti utilizzare canva.com l'ho guardato l'altro giorno ci sono anche dei bellissimi template natalizi e quindi promuovi la tua testa e la fedeltà con un tema natalizio. Ultimo consiglio che ti do è quello di augurare buon Natale inviare un augurio di Natale ai clienti facendo percepire loro l'importanza che riversano per la tua attività è sicuramente cosa molto gradita. Un'ottima idea è l'sms perché semplice breve con la certezza che venga letto potresti inviare un messaggio di questo tipo grazie per essere il nostro fedele cliente Luca per noi se è importante in negozio c'è un regalino che abbiamo preparato a posto per te basta trovarci così ci facciamo gli auguri di persona il regalino di cui parlo può essere una cosa veramente semplicissima una fioreria potrebbe fare una piccola pianta stella di Natale piccina un negozio di abbigliamento dei calzini una libreria magari un piccolo libro tascabile insomma non importa tanto il valore economico del regalo bensì l'idea che il cliente si senta di avere un piccolo pensierino in quel negozio nel tuo negozio e tra l'altro in questo modo farai un augurio che si differenzierà di molto da tanti auguri a te e famiglia che sinceramente personalmente per il mio parere fatti da un'azienda sono sempre un po' così sfruttare invece il Natale per ringraziare per far vedere che siamo veramente grati che quella persona è il nostro cliente è sicuramente un'ottima cosa ci siamo ora io ti consiglio di concentrarti su una o due attività che ti ho ti ho descritto quindi sicuramente il video precedente che parlava di come addobbare il tuo negozio è importante e quello è da fare anche su quello l'iniziativa dei pacchetti regalo secondo me è molto interessante del video di oggi prendi appunto scegli uno o due spunti mettili in atto nel tuo negozio è sempre meglio portare avanti poche iniziative ma fatte bene e comunicate altrettanto bene io però adesso sono curiosissima di vedere cosa mi state combinando per Natale se hai voglia se ti fa piacere di condividere delle foto di quello che hai fatto ci puoi taggare su una IG stories così su una Instagram stories e la ricondivideremo con molto piacere se apprezzi contenuti come questo iscriviti al canale perché come vedi siamo sempre sul pezzo e cerchiamo di darti consigli e tips di marketing molto concreti che possano aiutare la tua piccola attività a Grazie a tutti.